Mario e Arda siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna prescrizione Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amare e onorarvi l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarvi secondo la vita di Cristo e della sua Chiesa? Siete disposti ad accogliere con amore. And I've been a home for you, for me Until your depths disappear from me, from you and I And now it's time to leave And now it's time to die And now it's time to die Grazie a tutti.